Ha fatto molto parlare il duetto di ieri sera tra Elodie e Tananai. Protagonisti dello show Una Nessuna e Centomila, i due cantanti si sono esibiti sulle note del brano tango dando luogo a una performance particolarmente complice, che avrebbe fatto per sì. Protagonisti dello show Una Nessuna e Centomila Le chiacchiere proseguono oggi che il concerto è andato in onda e che Tananai stesso ha dedicato un messaggio affettuoso a Elodie, raccogliendo una risposta. Le chiacchiere proseguono oggi che il concerto è andato in onda e che Tananai stesso ha dedicato un messaggio affettuoso. Subito dopo la messa in onda dell'esibizione Tananai ha condiviso un post con i momenti più intensi della performance. In particolare ha condiviso i momenti in cui cantano stringendosi, abbracciandosi e guardandosi. Elodie sei una vera artista, grazie per avere condiviso il palco con me ha scritto il cantante. Poi ha condiviso i video più tocca a stretto giro è arrivata la risposta di Elodie, che ha lasciato un cuore e una faccina. Insomma, Eikley si è trovata bene a collaborare col col. La sintonia tra i due è apparsa chiara al pubblico che ha reso il video virale al momento delle registrazioni e ad Andrea Iannone, fidanzato di lei, che subito dopo l'avrebbe chiamata al telefono recri. La sintonia tra i due o almeno così racconta il settimanale.